Enego si trova ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale di Trento in gravissime condizioni un ciclista di 56 anni, residente nel comune dell'Altopiano, caduto a terra mentre percorreva in bicicletta via Mori, a pochi metri da casa. La causa dell'incidente pare sia un tombino non posizionato correttamente, che avrebbe provocato la perdita di equilibrio e la relativa caduta sull'asfalto dell'uomo, che ora lotta tra la vita e la morte. A dare l'allarme a alcuni passanti è necessario l'intervento dell'elisoccorso, sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica e capire le responsabilità dell'incidente causato, lo ripetiamo, pare dal manto stradale dissestato per la presenza di un chiusino pericoloso.